Ciao a tutti amici, sono Giussi e bentornati sul mio canale. Come vedete alle mie spalle ci sono ancora le decorazioni natalizie, il presepe, l'albero di Natale, quindi in pratica devo togliere ancora tutte le decorazioni dalla casa. Purtroppo questo lavoro qui avrei dovuto farlo il 7 gennaio, perché solitamente noi teniamo in casa tutte le decorazioni e l'albero di Natale fino al 6 gennaio, dopodiché smonto tutto. Il problema è che quest'anno c'è stato altro da fare, non sono stata a casa tutti i giorni, quindi questa giornata sarà dedicata all'eliminazione di tutte le decorazioni natalizie dalla casa, in tutte le stanze, come anche dell'albero di Natale. Per l'albero di Natale sinceramente voglio aspettare che torni perlomeno a Asia, perché la diverte molto questa, sia farlo che smontarlo, perché lei ovviamente si vuole rendere utile e quindi che ben venga, insomma mi faccio comunque aiutare da lei. Mentre tutto il resto delle decorazioni, insomma, ovviamente lo faccio io, perché diciamo almeno stamattina ho la mattinata libera, quindi posso dedicarmi a questo lavoro. Io spero di farvi compagnia, spero che il video vi piaccia, un bel pollice in su e partiamo subito col video. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. bene. a tutti.